Stai ascoltando un podcast per Izzogli Education. Lettura oltre. I consigli di Rachele Bindi. L'adolescenza. Ciao, nella puntata di oggi parliamo di un periodo molto particolare della vita, l'adolescenza. L'adolescenza è un periodo di passaggio dall'infanzia all'età adulta, caratterizzato da profondi cambiamenti fisici, psicologici e sociali. Per alcune persone si tratta di un cambiamento velocissimo e che inizia molto presto, mentre per altre va tutto un po' più lentamente. Per questo anche il confronto con i coetanei non è sempre facile. In questa fase di sviluppo siamo inoltre impegnati nella costruzione della nostra identità. Sentiamo il bisogno di capire chi siamo, di conoscere i nostri limiti e i nostri punti di forza, di trovare il nostro posto nel mondo. In questo il rapporto con gli altri svolge un ruolo di grande importanza. In questo processo di cambiamento l'amicizia può rivelarsi la risorsa più importante, come accade a Vinga, protagonista del romanzo Aspettando il vento, di Oscar Crone. La sua famiglia è nel pieno del cambiamento. Il padre e la madre hanno deciso di prendere strade diverse e lei è stata mandata in vacanza dal nonno sulla sua isola per avere modo di riflettere su quello che è successo e accettarlo con i propri tempi. Vinga è contenta di stare con il nonno perché lui le permette di essere se stessa senza pretendere che nasconda le sue emozioni come invece le capita sempre di dover fare con le altre persone. Il nonno le ha regalato una piccola barca con cui Vinga si sposta lungo le coste esplorando l'isola. Durante uno dei suoi pellegrinaggi la ragazza incontra Ruth, sua coetanea eppure diversa da lei in tutto. Nell'aspetto, Vinga ha i capelli rossi e indossa abiti coloratissimi, Ruth veste solo di nero. E nel carattere, Ruth ama la vivace vita in città, Vinga invece ama il mare e la quiete. Grazie alla loro amicizia, Vinga e Ruth scopriranno come crescere insieme e come navigare nelle tempeste del mare e in quelle del cuore. Anche il confronto e l'appartenenza al gruppo dei pari assumono grande importanza durante il periodo dell'adolescenza. Per ragazzi e ragazze è fondamentale sentirsi parte di un gruppo, sentirsi accettati e apprezzati dai coetanei. In alcuni casi, avere l'occasione di lasciarsi alle spalle la vita da preadolescente e poter ricominciare in un posto nuovo dove nessuno ti conosce può darti la possibilità di costruirti una nuova reputazione. Ne ha convinto Sige, il protagonista di La mia vita adorata dal re, di Jenny Jaggerfeld, che ha lasciato Stoccolma a 12 anni per trasferirsi con la mamma, le due sorelle e Einstein, il loro cane, in una cittadina più piccola. Alloggeranno al Royal Grand Hotel Scablaca, che non ha niente di regale se non il nome, gestito da nonna Charlotte, un'anziana effervescente tutta paillette, auto sportive e animali impagliati. Sige ha un piano, vuole costruirci una reputazione nuova di zecca in 59 giorni, per diventare finalmente popolare al momento del rientro a scuola. Come farlo? Nascondendo i difetti, offrendo dolcetti tutt'altro che banali e imparando a parlare in maniera disinvolta e autoironica di se stesso. Il piano è brillante, eppure non sembra procedere come sperato. Sige si trova a dover gestire continui imprevisti, spiacevoli per lui ma parecchio divertenti per lettori e lettrici. L'adolescenza è anche il periodo del primo amore. Ricambiato o infelice, il primo amore rappresenta per gli adolescenti un sentimento di grande intensità, totalizzante, mai provato prima. Per questo non si può parlare di narrativa sull'adolescenza senza citare qualche storia sui primi amori. Il primo titolo che voglio suggerirvi è Stargirl, di Jerry Spinelli. Stargirl Caraway arriva a Mika, una piccola cittadina dell'Arizona, in cui una ragazza come lei non si è mai vista. A raccontarci la sua storia è Leo Berlock, che ha un anno più di Stargirl e che quando la vede comparire ne è addirittura intimorito. In fondo, lei è un po' strana, conosce la data di compleanno di tutti, sembra sempre sorridente e inconsapevole dei pettegolezzi sul suo conto. Insomma, è impossibile da etichettare, e proprio per questo i coetanei non sanno come relazionarsi con lei. Anche Leo, come tutti gli altri, commette diversi errori lungo la strada che lo porta a conoscere Stargirl sempre più profondamente. Per lui sarà inevitabile innamorarsi di Susan Julia Caraway, è questo il vero nome di Stargirl, e trovarsi così davanti a un video, scegliere di rimanere vicino a una ragazza diversa da tutti, ma dall'animo sincero, o allontanarsi da lei per rimanere fedele al gruppo che conosce e cui appartiene da sempre. Un'altra storia che merita di essere letta è l'amore sconosciuto di Rebecca Stregg. Le tre protagoniste, Bridge, Emily e Tabitha, sono riuscite a crescere insieme rispettando il loro patto di non litigare mai, ma ora che hanno 12 anni si rendono conto che le cose tra di loro iniziano a cambiare. I segreti, le tensioni, gli impegni sempre più numerosi le allontanano poco a poco, ed è qui che hanno inizio i problemi. Per M, che viene sospesa da scuola per essersi cacciata nei guai. Per Tabitha, che frequenta un gruppo sui diritti umani che la coinvolge sempre di più. E anche per Bridge, che si iscrive a un club di scenografia e che non riesce a smettere di farsi domande. Quali sono i confini dell'amicizia? Che cos'è l'amore? Come lo riconosco? In questa fase di profondo cambiamento, in cui è forte l'esigenza di rimanere in contatto, il web è uno strumento capace di soddisfare molti bisogni. La comunicazione, la socializzazione, la conoscenza. Si tratta tuttavia di un mondo che nasconde anche numerosi rischi e pericoli. Mira sa tutto, di Luigi Ballerini, è una storia sui pericoli della rete. Racconta di un mondo in cui un sistema operativo di nome Mira è integrato nella vita di ciascun cittadino e cittadina, tanto da prendere per loro ogni decisione dalla più banale, che cosa indossare o quale film vedere, alla più importante, come scegliere la persona con cui condividere il resto della propria esistenza. Il sistema operativo Mira conosce le persone ben più a fondo di quanto loro non conoscano se stesse e nessuno pensa di poter mettere in discussione le sue scelte. Ale e Vera si incontrano proprio grazie a Mira, ma Vera sente che qualcosa non va. Questo monitoraggio del sistema è troppo intrusivo. È davvero giusto condividere costantemente la propria vita sul social, chiamato My Life, come il sistema richiede? I dubbi di Vera porteranno a un risveglio delle coscienze. Vera e Ale, insieme a un gruppo di ragazzi, decidono di riprendersi le loro vite, ricominciando a prendere decisioni autonomamente. Ma come è possibile eludere la stretta sorveglianza di Mira? Per questo gruppo di giovani coraggiosi, assumere un atteggiamento sano nei confronti della vita e delle proprie responsabilità significa compiere un atto di ribellione al sistema e le ribellioni possono avere un prezzo molto alto. Seguici su rizzoglieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Lettura Oltre, i consigli di Rachele Bindi. Hai ascoltato un podcast per Izzogli Education.